Attiva la frequenza d'amore, aumenta la tua energia vibratoria, meditazione profonda. Mettiti in una posizione comoda, con le spalle rilassate, le braccia rilassate. Ascolta il suono della mia voce e chiudi dolcemente gli occhi. E mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, inspiri ed espiri. Non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te sta cambiando. Inspiri ed espiri. Inspiri ed espiri. E se continui ad ascoltare il suono della mia voce, non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te, profondamente, sta iniziando a cambiare armonia. Adesso ti chiedo, mentre continui ad ascoltarmi, di entrare in un rilassamento sempre più profondo. Sempre più profondo. Lasciare che il tuo corpo diventi sempre più pesante e rilassato. E mentre il tuo corpo diventa sempre più pesante e rilassato, la tua mente diventa più in cielo. E le tue vibrazioni iniziano ad aumentare. Percepisci le vibrazioni della tua energia. Percepisci te stessa, te stesso, come un essere di luce che vibra. E non so se ti rendi conto che ad ogni vibrazione cambia il colore della frequenza, del tuo corpo di luce. E lascia che la frequenza si sviluppi sempre di più, fino ad arrivare alla frequenza più elevata, la frequenza dell'amore. E la frequenza che ti permette di attraere amore nella tua vita. La frequenza che ti permette di raggiungere tutti i tuoi obiettivi sentimentali e affettivi. Mentre continui ad ascoltarmi e ascoltare il suono della mia voce, sei la persona che può ottenere veri risultati. Tu puoi ottenere dei risultati veramente importanti. Ascolta il suono della mia voce. Ascolta il suono della mia voce. E dentro di te si svilupperanno energie profondate. Energie di vibrazione. Ascolta il suono della mia voce. L'energia dell'amore diventa sempre più marcata, sempre profonda. E tu sei in grado di sintonizzare. E adesso prova un amore intenso. Un amore intenso. In questo momento, mentre ascolti il suono della mia voce, vuoi provare un amore veramente intenso. Un amore molto intenso. Ascolta il suono della mia voce e lascia che l'amore che provi diventi sempre più forte. sempre più intenso. Sempre più intenso. Ascolta il suono della mia voce. Ascolta il suono della mia voce. Ascolta il suono della mia voce. respiro. E tu... Ascolta il suono della mia voce. Ascolta il suono della mia voce. e l'amore cresce dentro di te. E l'amore cresce dentro di te. Sempre di più. Ascolta il suono della mia voce. E ti rilassi sempre di più. Il tuo rilassamento diventa sempre più profondo La frequenza dell'amore vibra dentro di te La tua energia aumenta e ti rilassi sempre di più E mentre ti rilassi sempre di più la tua energia aumenta E inizia a vibrare fortemente alle frequenze dell'amore Inspira ed espira Ed ogni ispirazione, un raggio di luce ed energia penetra dentro di te E il tuo respiro diventa sempre più calma e regolare Come calma e regolare è il respiro del mare Come calma e regolare è il respiro dell'universo E tu entri sempre di più in uno stato di energia vibratoria Inspira ed espira Inspira ed espira E stai sempre più forte E stai sempre più potente Inspira ed espira E adesso E adesso Fai tre respiri profondi Trattieni l'aria alcuni istanti E poi fai uscire fuori, fin in fondo Dalla bocca E al termine di questi tre respiri profondi In cui Hai ispirato Energia pulita Lasciati completamente andare Lasciati completamente andare E dentro di te Aumenterà L'energia e la frequenza dell'amore E adesso Al termine di questi tre respiri profondi Inizia a muovere le braccia Le mani Le gambe E per finire Apri dolcemente gli occhi Sentendoti bene Tranquillo Tranquilla Rilassato Rilassata Pronto ad attrarre amore nella tua vita Bene Iscriviti al canale Attiva la campanella Così riceverai la notifica dei nuovi video